Addio per sempre! Vieni pure, Sam! Te l'avevo detto che non avrebbe funzionato! Evviva, ce l'ho fatta! È inutile farsi illusioni! L'energia di Cell è più viva che mai! La battaglia durerà ancora a lungo, purtroppo! Goku è veramente straordinario! È riuscito ad attaccarlo al momento opportuno! Non illuderti! Se pensi che la partita sia finita, ti stai sbagliando di grosso! Non riesci a percepire l'energia che emana ancora il corpo di Cell! Ha ragione! La sua aura non è diminuita per niente! Ma come può essere? Vi prego, ditemi che non è vero! No! Assomiglia molto al mio cerchio magico! Avete visto? È da non credere! Già, riesce a controllare i movimenti alla perfezione! Quello che Cell sta usando non è il cerchio magico di Krillie! È la stessa tecnica utilizzata da Freezer sul pianeta Namek, cioè una specie di lama laser! Il Dottor Gelo era davvero un folle! Non so come abbia potuto dar vita a una creatura tanto mostruosa! Sì! Oh! Sì! 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 Ehi, l'ho capito che stai cercando di farmi fuori con la mia stessa arma Venendomi sempre più vicino per poi scansarti all'ultimo momento Ma vedi, io non mi lascerò colpire come freezer Mi dispiace, ho previsto anche questo Non riuscirei mai a battermi con le tecniche dei miei amici Le conosco alla perfezione